ciao a tutti vi saluto tutti gli accordiani eccoci qua lo stand galli strings e galli pics il pic il nuovo marchio per la personalizzazione di materiali e con tre semplici con tre semplici passaggi ci si può collegare al sito a prodare una grafica personale oppure comporla con il simulatore e ricevere a casa direttamente i propri plettri questa è la novità che stiamo presentando rispetto ad altri sistemi analoghi già nati in passato quasi all'opportunità innanzitutto di stampare su plettri veri in tanti materiali sempre qua in fiera abbiamo portato questa è una questa è una piccola chicca questo è celluloide vintage praticamente insomma un prodotto quasi estinto se vogliamo dagli scaffali e poi i nuovi plettri in derri in bianco quindi sostanzialmente è possibile scegliere celluloide derri in policarbonato feltro acciaio rame tartarugato per lato stiamo offrendo una gamma ampissima di prodotti e di forme che vanno dagli shell 346 tipici triangolari ai 351 tipico plettro fender ai diciamo ai nuovi pics con shell più estremi insomma come vuole questo esempio sono i plettri in metallo quindi per i bassisti rock in particolare rame ottone e acciaio i plettri in feltro anche questi personalizzabili con la grafica e anche ambo i lati sulle corde abbiamo portato in fiera un piccolo campionario che illustra la nostra ampia gamma come le led di tunet corde per strumenti drop le black nylon nylon nero chitarre jazz le rock star che sono il nostro standard per la chitarra rock quindi nickel con anima a sezione esagonale le jets flat in acciaio con rivestimento liscio flat wound lucidato a mano le corde con protezione insomma le coated le pro coated in questo caso che garantiscono grazie ad un film poliuretanico che ne ricopre la superficie una durata maggiore della corda stessa e questo per quanto riguarda la chitarra dall'altro lato abbiamo quelle per chitarra acustica e per chitarra classica e quindi andiamo dalle più classiche corde per chitarra folca quelle gypsy jazz per strumenti manoush le jazz flat acustiche per strumenti jazz ma acustici le pro code anche queste poi la linea per chitarra classica con le genius al carbonio nylon cristallino cantini in titanio e quelle in flamenco la nuova linea per ukulele sia in bio nylon che in fluoro carbonio e poi le corde da basso anche qui diciamo ci abbiamo le chitarre le di tune per bassi droppati le corde normali con protezione anche queste pro code la signature di saturnino le rock star la classiche nickel le jazz flat e le black nylon 治ор Ansari si 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 Grazie.